Poi ovviamente a parla ragazzi, qua è Axelogio Megato, oggi sono solo e sono qui per presentarvi questo velocissimo video Un attimo di aggiornamento, questo perché allora non so se la riconoscete ma questa è la mia stanza Perché ragazzi, ho cambiato postazione adesso, io vi sto per far vedere la nuova postazione Però premetto che ovviamente devo ancora prendere la scrivania tattica, quella ad angolo E appunto poi dovrei un attimo sistemare perché proprio l'ho appena cambiata Poi vi volevo anche dire che faccio in questo video per dirvi che o stasera zenonesgo oppure domani farò il pink pale di Lo vedrete, è molto tattico, tipo costa sui 300.000 Quindi ovviamente sarà su Xbox perché adesso vi spiegherò anche questo comunque Poi un'altra cosa che vi metto è che non l'ho riordinata, era proprio per un video tattico Infatti mi sa che la parte di sinistra non ve la faccio vedere Comunque ragazzi allora in poche parole, questa qua adesso anche la tv è improvvisata Ne dovrò prendere mi sa una più piccola Il tavolo è quello da giardino che roba, come vedete è tutto un bordello Comunque qua c'è la tv, qua c'è il computer, tastiera e qui faccio i compiti Dove ho appena fatto i compiti, come vedete è tutto in ordine Comunque vi volevo un attimo dire una cosa Intanto vi faccio vedere qua una piccola cosa La batteria è quasi scarica, chissà se mi farà continuare a fare il video Che ho fatto un nuovo Metti a fuoco Non metti a fuoco Ste palle, ho fatto un nuovo pack of the day Quindi andatelo a vedere sul secondo canale Comunque ecco io prenderò una scrivania che unisce questo tavolo a questo Quindi viene proprio una cosa tattica E comunque boh il video è finito E appunto per dirvi un attimo che ho cambiato postazione per i miei iscritti abbastanza attivi I miei iscritti più, più, più antichi se si può dire così Sapranno che questo vuol dire ciò comporterà che farò video con la facecam Perché la metterò qua da qualche parte Però prima voglio un attimo sistemare tutto così per avere tutto tattico, tutto in ordine E quindi ragazzi allora detto questo io vi saluto e vi dico potente Bye like si sente al prossimo video, bolla domani si sente Credo domani si, non lo so, bolla